Vittoria dell'Atalanta E Maxi Morales come si trova a Bergamo all'Atalanta vedendo sul campo sembra bene No, bene, la verda che sì, bene, credo che è una città molto linda, è molto tranquilla Ovviamente la squadra sono anche grandi ragazzi, credo che i tifosi senza parole sono molto caldi E la verda è che è un conjunto di tutto che uno fa che si trovi bene, che stai contento E speriamo di seguire dandole l'allegria, che è importante Ma tu ti aspettavi una squadra così, una squadra determinata, aggressiva, insomma forte Contro tutto, perché neppure la fortuna vi ha aiutato molto nell'ultimo periodo Sì, la verda che sì, ovviamente lavoriamo per questo, per trattare di essere molto forti Más che nada in cancia nostra, però speriamo di seguire ovviamente migliorando Ci sono cose per migliorare e credo che questo equipe può anche giocare molto meglio Però, bene, credo che a la finale del campeonato debemos, bene, trattare di seguire Jogando della stessa maniera per lograre punti che per noi sono importanti Grazie 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 Grazie